ciao ragazzi vi faccio vedere un po di smalti della sci il marchio sci in pratica lo vende il dm sono sempre smalti low cost io ho preso della linea gel like ultra stay ne ho presi tre questi qua questo è molto luminoso verde e il 419 sono 10 ml e 36 mesi dalla partura ed è questo bellissimo colorino qua che già va bene alla prima stesura quindi perfetto poi ho preso sempre della linea gel like ultra stay questo qua che il 415 questo non tanto mi piace però sempre la prima stesura già va bene è sempre un verdino però vedete che è un po sul grigino e quindi diciamo che non tanto mi piace però guardandolo così sembrava meglio questo violetto qua che 350 ed è questo qua già buona la prima passata e poi ho preso anche quest'altri sempre della sci della linea qui che è in cresi questo è il verdone ed è il numero 802 sono 7 ml questa linea gli smalti sono più piccoli però sono anche questi carini vedete com'è bello questo questo verde qua qua necessita invece di una seconda passata perché comunque si vedono le striature e così già è molto meglio poi ho preso questo qua sempre della mia qui che è in cresi l'801 vedete che bel verdino questo è molto chiaro vedete quasi trasparente facciamo una seconda passata vediamo un po' se riusciamo a sistemare e così è già molto meglio però questo rimane sempre molto ma molto trasparente quindi diciamo se uno vuole dare un effetto diverso metterlo su una base bianca su una base nera magari sulla base bianca questo sbrilluccica ancora di più ho proprio uno smalto bianco qua l'ho già messo qua vediamo di provare questo a vedere un po' l'effetto che fa e questo è il risultato il bianco sul con poi questo sopra e questo è il risultato il bianco sul con poi questo sopra vedete allora un colore più pieno rispetto a quello questi due sono quelli che questo è il colore solo lui che vi ho fatto vedere della quick and crazy e questo diciamo è la base bianca con lui sopra quindi molto meglio molto più pieno poi quest'altro sempre della qui che in crisi della sci ed è il numero 800 questo bellissimo verde acqua vedete quanto è bello molto molto ultimo della sci questo qua ed è il 665 sempre della linea quick and crazy e questo è il risultato solo la prima passata e diciamo che abbastanza buono e con questo vi saluto ciao alla prossima